La task force dell'Asle Toscana Centro delle ex aziende sanitarie di Firenze Pistoia, Prato ed Empoli si è riunita questa mattina a Firenze per decidere il piano di intervento contro il meningococco C. Stima dei fai bisogni del vaccino, sistema unico di prenotazione, un piano di potenziamento delle sedute vaccinali e l'incremento del personale tra medici, assistenti sanitari e infermieri. E ancora vaccinazione nei presidi territoriali, ma anche negli ospedali e nelle sedi delle associazioni di volontariato. Questi i punti chiave. L'obiettivo dei prossimi giorni è quello di uniformare le procedure di accesso alle vaccinazioni su tutto il territorio della nuova Asle, per dare una risposta coordinata il più possibile rapida alla popolazione, prevista dalla campagna iniziata lo scorso aprile, che per il momento, come da indicazioni regionali, resta quella in età compresa tra gli 11 e i 45 anni. Sono 48.229 le dosi totali di vaccino previste per il mese di febbraio, 190.000 quelle per il mese di marzo. Necessaria il potenziamento dell'offerta, 36.000 per Pistoia, 32.000 per Prato, 94.000 per Firenze e 28.000 per Empoli. Le dosi saranno disponibili per i presidi aziendali, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, le strutture di igiene, sanità pubblica e per le associazioni di volontariato, che hanno dato la disponibilità ed aderiranno alla campagna. In particolare sarà potenziato anche il canale di offerta della medicina generale e della pediatria di famiglia. Da lunedì prossimo inizieranno gli interventi informatici per estendere il sistema di prenotazione a CUP anche ai territori di Prata e Pistoia. Triplicheranno così i punti di prenotazione. Il cittadino potrà scegliere di vaccinarsi non solo nel luogo dove è domiciliato, ma dove preferisce, ed avrà l'opportunità di andare nell'ambulatorio dove in quel momento la lista d'attesa è minore. Tutto questo a partire dai primi giorni di marzo.